Sicuramente un grande risultato perché per la prima volta riusciamo ad arrivare a un mondiale quindi veramente complimenti ai ragazzi, complimenti ai tecnici insomma hanno fatto un qualcosa di importante siamo stati un po' sfortunati perché ovviamente se avessimo vinto la partita contro la Francia o meglio pareggiata anche forse oggi saremo a giocarci la finale del terzo e quarto posto però sono soddisfatto, complimenti ai ragazzi e complimenti veramente a quello che hanno fatto C'è molta affluenza del pubblico e siamo contenti perché come federazione abbiamo dato tantissimo per l'organizzazione devo ringraziare tutti i ragazzi, tutto lo staff della federazione, dell'organizzazione ma è un risultato secondo me eccellente per tutto il mondo paralimpico È stato un grande campione europeo da parte della nostra nazionale abbiamo ridotto quel gap con le altre nazionali più forti, con più tradizione e questo ci fa ben sperare anche per il futuro e per il mondiale che ci sarà il prossimo anno Il banco di prova sarà proprio quello, la federazione si aspetta un'ulteriore crescita da parte di questi ragazzi e poi il mondiale è la massima competizione Sì assolutamente, adesso da settembre pianificheremo la nuova stagione in previsione proprio di questo mondiale e siamo fiduciosi perché sono sincero io ho visto una bella squadra, molto unita, molto forte e quindi perché no possiamo anche sognare Sì siamo molto felici, ci tenevamo tanto a raggiungere questo grande obiettivo e ci tenevamo molto per essere, vi dicevano i miei compagni che per essere ricordati bisognava fare parte della storia, bisognava scriverla e oggi credo che sicuramente l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per tutti, per lo staff, per la FISPIC per la federazione che ci ha messo tanto anche se siamo un po' ramaricati, ramaricati per il fatto che per la squadra che eravamo sicuramente potevamo arrivarci anche da terzi bar a quarti per andare a giocarci a meno alla semifinale però l'obiettivo volevamo raggiungerlo a prescindere e quindi ce l'abbiamo fatta quindi l'importante è esserci riusciti e ora testa già al mondiale a partire da settembre e dobbiamo metterci sotto perché sarà molto importante la preparazione che ci aspetta da adesso fino al prossimo anno